Siamo in streaming? Sì, potrei anche salutare la ragazza. Siamo del movimento di liberazione estemporanea di San Giuliano. Non è che siamo tanto credibili da un punto di vista militare, ma ce la mettiamo tutta. Quello che interessa sono le intenzioni, e a questo punto la pubblicità fa 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 fa. Bellino, metti anche il nome. Vai, metti anche il tuo nome. Grazie. Vieni, ora ti dà la sorpresina. Sandro, vieni. Allora, questi sono semini? Sono semini, se c'è pianti in un pallino, se c'è un pallino a casa, mi pianti in un pallino che trovi a San Giuliano? E' un pallino che trovi a San Giuliano. E' un pallino che trovi a San Giuliano. E' un pallino che trovi a San Giuliano. aiutare allora il cuore allora ma non ci vediamo no non ci vediamo vieni vieni anche il palloncino cosa facciamo? Scania bianco? o no il fiore vai, allora facciamo un bel fiorellino con il gambo verde e poi vieni, scegli il colore 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 Grazie. 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 se ci potrebbe essere, il ponte, il posso, le patelle, le patelle, le patelle, le patelle, le patelle, brava, te ne fai le patelle, le patelle, ci sono le patelle a saldita, poi se potete scriveteci il nome dietro, vabbè a tutti si, dai, dai, non mi dici poco spazio, non mi dici PartitoIo, io, che cos'è parte, voi, che cos'è parte? Ciao, ciao! no no bravo l'arrivo ok grazie 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 è pronto è pronto è pronto è pronto e stanti per arrivare l'anticipato dei pagliacci con noi ci va mai a disegnare qua? vuoi venire a disegnare? vieni vi facciamo un po' di spazio cancela a penerba non è brava la penerba vieni qua now and 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 Grazie. 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 Buongiorno. Si cos'ha fatto? Guarda anche per chi. Grazie. 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 Aspettiamo qui. Grazie. Aggiustiamo tutto. Hai scritto il nome. Lo scriviamo insieme. Vieni. Penelope. Hai detto? Vai, scriviamolo insieme. Per colore. Questo qui. Vai. Facciamo insieme. Reggi. Posa quello lì? Brava. Allora, scriviamo. Scriviamo qui in alto. Guarda. Facciamo la F. Poi la E. Poi la N. Dai. L. Penelo. Facciamo anche il cuoricino. Hai visto? Mettiamo il tappino. Vai. Vieni qui. Scriviamo la corpo. E poi la dobbiamo. Come si dice? Grazie. Scriviamo dopo. Sì, finiamo dopo. Sì, finis. Grazie. 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 la roma ho fatto un po' e la prima cosa che non è riconoscevo la sera ho visto passare ciò allora è allestito bella così semplice colorata bene bene i bimbi segnali da qui si prende lo spuso per il nome infatti io lo dicevo la prossima volta è a tempo breve ce ne rifà un altro ne rifacciamo un altro ora troviamo il nero scolletto il abbiamo con il оньco è don la ecco il abbiamo scelta london al non l'arresto il spirli ora il l'arresto il si l'arresto il s bravo e l'in paura i ahahah c'è da levante c'è da levante poi c'è da tapparco però lì quando ci ha segnalato di un po' Grazie. 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 però ho una foto e tre in cielo, però farei volentieri si, allora si fa io? si, quando tornavo dal lutto mi ho avuto ventiglia di cielo mi potevi chiamarti? si ma ci sono anche le vittime una farina delle api? si ma adesso potete essere novi mi dice che era un po' di segno per il luogo nostro si dice che le fa un San Giuliano in realtà può fare così adesso è un piccino poi le do poi c'è il socio che fa il palloncino che lì ci ha fatto un pallone di e' un po' che ho a prendere le sposte facendo te e' un po' di segno 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 vediamo il polone vediamo il polone grazie mille grazie a voi si fa una foto come associazione Luca Valentina no ancora mi piace no ma io mi metto i camminiani ah dai 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 eh fa l'associazione no socio ce la fa un zionto la spada grande socio c'è c'è ma che è c'è gabiere casadella che è fa c'è c'è grazie mi dava l'occhiale un po' dietro grazie grazie noi non ci vediamo è subito eccola e lui è guarda bello è buono si si c il 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 a ma il il Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 e... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... Grazie a tutti. 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 brava, non era venuta a noi al ballo, ce la facevo più a fai che non si e io no, a chi a lui dato, vedi, è il poliziero a lui l'associazione che abbiamo fatto si spiega un pochino eh, già capito si, si te lo spiega lei l'ha già spiegato guarda che cagliace amore, un po' bello, disegno disegno vieni 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti